Siamo qui per parlare della tattica di Juventus udilese, una gara che devo dire ragazzi mi ha soddisfatto veramente molto. Finalmente posso dire di aver visto una bella Juve dal punto di vista del gioco espresso, che è il motivo per cui appunto Sarri è stato ingaggiato in bianconero. Ovviamente perché oggi la Juventus ha giocato bene, cioè perché la Juve oggi ha avuto questo grande salto di qualità? Per vari motivi, che andremo comunque a capire in questa analisi tattica. La prima cosa di cui voglio parlarvi riguarda la situazione relativa al tridente pesante. Si è creduto per tempo, per molto tempo, che questo famigerato tridente pesante fosse insostenibile per la Juve, quando in realtà avete visto anche voi che non lo è. Per molti motivi, uno dei quali è la presenza di Dybala, che è un giocatore che ha aiutato in maniera straordinaria il centrocampo. Avete contato quante volte Dybala ha andato indietro a prendersi il pallone? Perché saranno solo nel primo tempo una ventina di volte. Nel secondo tempo, voglio dire, ha aiutato ancora di più la manovra. Quindi stiamo parlando di un giocatore che permette lo schieramento del tridente, perché all'interno di quel tridente c'è un giocatore che comunque riesce, dal punto di vista tecnico, ad essere valido e al tempo stesso ad agire fra le linee. Inoltre, la presenza di Guain, di cui comunque parleremo in maniera dettagliata, ha permesso a Ronaldo di essere un pochino più libero dai condizionamenti. Quindi cercare di fare un po' di lavoro sporco attorno a Ronaldo era la cosa che chiedevo dall'inizio dell'anno. Avevo sempre detto che per mettere in condizione Ronaldo e farlo segnare di più bisognava affiancargli persone che gli facessero un lavoro sporco, persone che potessero, da questo punto di vista, esentarlo da tutti quei compiti di carattere tattico che di solito Ronaldo non fa e che se fa, comunque, lo riducono a un giocatore che fa solo quello. Nel senso, non puoi pretendere di avere un giocatore che segni e che faccia anche lavoro sporco. Da questo punto di vista è interessante notare la posizione di Ronaldo, perché Ronaldo oggi ha giocato, penso, per la prima volta in stagione nella sua posizione. Innanzitutto molto più avanti, perché non è andato mai a centrocampo a prendersi il pallone. Poi sempre sul centro-sinistra, cioè non si è mai spostato, ragazzi. E questo ha contribuito al fatto di farlo arrivare molto più lucido vicino alla porta ed ha contribuito comunque al fatto che il tridente ha potuto servirlo con più rendimento di davanti. Tra l'altro, posso dire anche un'altra cosa, mi è piaciuto molto il pressing fatto della Juve. Cioè la Juve ha attuato una sorta di calcio aggressivo. Perché? Perché ogni volta che il possesso di palla era a favore dell'Udinese, quindi c'era il loro portatore di palla che ci puntava, la Juventus andava con due uomini a raddoppiare la marcatura. Una cosa veramente straordinaria che facevamo già negli anni scorsi, ma che quest'anno ancora non avevamo visto con, diciamo, un certo tipo di costanza. Mi ha stupito il centrocampo, cioè anche giocatori come Rabiot e Matuidi, che non sono particolarmente in condizione perché Matuidi non è al meglio della forma. Rabiot ha i problemi suoi dal punto di vista della tenuta fisica. Io trovo che abbiano giocato comunque in maniera decente, almeno dal punto di vista tattico. Cioè sono riusciti a andare veloci a pressare gli uomini e a togliere i palloni all'Udinese. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Una bella Juventus, anche nel secondo tempo dove c'è stato un piccolo calo fisico, però la Juventus ha mantenuto bene il possesso della palla, ha fatto sì che la Juve potesse marciare sempre su ampi binari e mi è piaciuto anche perché finalmente ho visto un po' di manovra larga. Cioè basta andare con gli uno o due stretti, 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 perché alcune volte ti aggrediscono. Quindi la Juve l'ha capito e grazie ai terzini che si sono alzati, De Sciglio e ovviamente anche Danilo, finalmente la Juventus ha giocato come avrebbe dovuto giocare dall'inizio della stagione. Senza parlare poi dell'importanza di Bentancur che finalmente davanti alla difesa ha fatto una gara degna di questo nome, cioè finalmente ha dettato i tempi. Quindi veramente non c'è nulla da dire. Forse l'unica cosa che potrei contestare un pochino nella gara, l'unica cosa che veramente non mi è piaciuta, è che alcune volte si commettevano troppi errori di carattere tattico e tecnico. Cioè alcune volte Di Bala chiedeva a Danilo e a De Sciglio dall'altra parte di sovrapporsi e non si sovrapponevano e alcune volte invece c'erano giocatori che sbagliavano i controlli. Per il resto ragazzi non ho veramente nulla da dire. Buona gara!